Annabeth. Annabeth aveva raggiunto il limite massimo del terrore. Era stata assalita dagli spiriti. Si era rotta una caviglia. Era stata inseguita da un esercito di ragni sopra un abisso. Infine, alle prese con un dolore tremendo, con la caviglia fasciata di stecche e fogli di Pluribol e senza nessuna arma tranne il pugnale, si trovava ad affrontare Arachne, una mostruosa creatura ragnesca che voleva ucciderla per poi realizzare un arazzo commemorativo dell'evento. Nelle ultime ore Annabeth aveva tremato, sudato, sofferto e represso così tante lacrime, che il suo corpo aveva semplicemente smesso di avere paura. Il messaggio che le arrivava dalla mente diceva più o meno «Ok, mi dispiace, non posso essere più terrorizzata di come sono già». E così, invece, cominciò a riflettere. La creatura mostruosa iniziò a scendere partendo dalla cima della statua ricoperta di ragnatele. Si spostava di filo in filo, sibilando di piacere, con le quattro paia di occhi che scintillavano nell'oscurità. Non aveva fretta, oppure era lenta. Annabeth si augurò che fosse lenta. Non che fosse importante. Lei di certo non era nelle condizioni di correre e dubitava di avere molte possibilità di vittoria in uno scontro diretto. Arachne probabilmente pesava centinaia di chili. Quelle zampe accuminate erano perfette per catturare e uccidere le prede. E poi chissà quali altri orribili poteri aveva. Un morso velenoso? La capacità di volteggiare tra i palazzi come un uomo ragno dell'antica Grecia? No, lo scontro diretto non era la soluzione. E ciò lasciava spazio all'astuzia e all'intelligenza. Secondo le antiche leggende, Arachne si era cacciata nei guai per via dell'orgoglio. Si era bantata dei suoi arazzi, sostenendo che fossero più belli di quelli di Atena. Da lì era nato il primo reality show punitivo dell'Olimpo. E così pensi di tessere meglio di una dea? Chi Arachne aveva perso alla grande. L'orgoglio? Annabeth ne sapeva qualcosa. Era anche il suo più grande difetto. Spesso doveva sforzarsi di ricordare che non poteva fare tutto da sola. Non sempre era la persona più adatta per ogni tipo di compito. A volte non vedeva oltre la punta del proprio naso e si dimenticava delle esigenze degli altri, anche di quelle di Persi. E si distraeva facilmente, parlando delle cose che l'appassionavano. Ma poteva sfruttare tale debolezza contro il ragno? Forse si avesse temporeggiato. Anche se non capiva bene in che modo le sarebbe stato utile, i suoi amici non sarebbero stati in grado di raggiungerla, perfino se avessero saputo dove andare. Non poteva contare sui rinforzi. Eppure prendere tempo era meglio che morire. Annabeth tentò di mantenere un'espressione calma, cosa non facile con una caviglia rotta. Soppicando, si diresse verso l'arazzo più vicino. Un paesaggio dell'antica Roma. «Miraviglioso!» esclamò. «Parlami di questo arazzo!» Arachne storse le labbra sopra la mandibola. «Che ti importa? Stai per morire!» «Beh, sì, ma il modo in cui hai catturato la luce è strepitoso», replicò Annabeth. «Hai usato fili di oro puro per i raggi del sole?» La tessitura era davvero sorprendente. Annabeth non dovette fingere di esserne colpita. Arachne si concesse un sorriso compiaciuto. «No, figliola, non è oro. Ho mescolato i colori, mettendo a contrasto il giallo brillante con altre tinte più scure. È questo che conferisce l'effetto tridimensionale. Magnifico!» La mente di Annabeth si divise in due livelli distinti. Uno che proseguiva la conversazione, l'altro che tentava disperatamente di trovare un piano per sopravvivere. Non le venne in mente nulla. Arachne era stata sconfitta una sola volta, datene in persona, e c'erano volute la magia di una dea, e un'incredibile abilità in una gara di tessitura. «Allora, è una scena che hai visto di persona?» Arachne si bilò, schiumando in modo poco attraente dalla bocca. «Stai cercando di rimandare il momento della tua morte. Non funzionerà!» «No, no!» insistette Annabeth. «È solo che mi sembra un peccato che nessuno possa ammirare questi splendidi arazzi. Dovrebbero stare in un museo, o cosa?» domandò Arachne. Un'idea folle si affacciò dalla mente di Annabeth, completa di tutto punto, come Athena era saltata fuori già bella e finita dalla zucca di Zeus. «Ma sarebbe riuscita a metterla in pratica?» «Niente», sospirò, con una punta di rimpianto. «È una sciocchezza. Peccato». Arachne scese rapidamente lungo la statua fino ad appollaiarsi sullo scudo della dea. Perfino da quella distanza Annabeth sentì la puzza del ragno. Sembrava un forno pieno di pasticcini lasciati a marcire da un mese. «Cosa?» insistette il ragno. «Che sciocchezza è!» Annabeth dovette costringersi a non indietreggiare. Caviglia rotta o meno, ogni singolo nervo del suo corpo fremeva di paura, suggerendole di fuggire dalla creatura mostruosa sopra di lei. «Oh, è solo che ho ricevuto l'incarico di riprogettare l'Olimpo», spiegò. «Sai, dopo la guerra dei Titani. Ho quasi finito tutto il lavoro, ma ci servono ancora tante opere d'arte di buona qualità. La Sala del Trono, per esempio. Stavo pensando che le tue opere sarebbero perfette là. I dèi dell'Olimpo potrebbero finalmente apprezzare il tuo grande talento». «Ma come ho detto, è una sciocchezza?» La pancia ersuta del mostro fremette. Le sue quattro paia di occhi scintillarono come se nutrisse un pensiero diverso dietro ciascuno di essi e stesse tentando di tesserli in una tela coerente. «Stai riprogettando l'Olimpo», ripete Aracne. «Le mie opere nella Sala del Trono». «Beh, anche in altri spazi», precisò Annabeth. «Diverse starebbero bene nel padiglione principale. Quella con il paesaggio greco? Beh, le nove muse ne sarebbero felicissime. E sono sicura che pure gli altri dèi litigarebbero per accaparrarsi le tue opere. Farebbero a gara per averle nei loro palazzi. Immagino che, a parte Atena, nessuno degli dèi abbia mai visto di cosa sei capace, giusto?» Aracne serrò le mandibole. «Sì e no. Nei tempi antichi, Atena ha strappato tutte le mie opere più belle. I miei arazzi raffiguravano gli dèi in un modo non molto lusinghiero. Tua madre non lo apprezzava». «Che ipocrita», commentò Annabeth. «Gli dèi si prendono in giro di continuo. Credo che il trucco sia metterli l'uno contro l'altro. Ad Ares, per esempio, piacerebbe da Matti un arazzo che si prendesse gioco di mia madre. Ce l'ha sempre avuta con Atena». Aracne piegò la testa a un'inclinazione innaturale. «E tu trameresti contro tua madre?» «Ti sto solo dicendo cosa piacerebbe ad Ares», replicò Annabeth. «E a Zeus piacerebbe molto un'opera che si facesse beffe di Poseidone. Sono sicura che, se vedessero i tuoi arazzi, i dèi dell'Olimpo capirebbero il tuo enorme valore. E io dovrei fare da mediatrice in una guerra per l'assegnazione delle tue opere. Quanto a tramare contro mia madre, perché non dovrei? E' stata lei a mandarmi qui a morire, no? L'ultima volta che l'ho vista a New York, praticamente mi ha rinnegato». Annabeth le raccontò come era andata. Parlò dell'amarezza e della tristezza che provava, e dovette sembrare sincera. Il ragno non le saltò addosso. «Atena è fatta così», sibilò Aracne. «È capace di mettere da parte perfino la propria stessa figlia. Non permetterà mai che i miei arazzi siano esposti nei palazzi degli dèi. È sempre stata gelosa di me. Ma immagina se tu finalmente riuscissi ad avere la tua vendetta, uccidendo te? Forse…» Annabeth si grattò la testa. «Oppure facendomi diventare la tua gente. Potrei portare le tue opere sull'Olimpo. Magari organizzare una mostra per gli altri dèi. E quando mia madre lo scoprirà, sarà troppo tardi. Gli dèi dell'Olimpo finalmente capirebbero che le tue opere sono più belle». «Allora lo ammetti!» gridò «Sì, ma che te ne fai?» replicò Annabeth. «Se io muoio quaggiù, tu continuerai a vivere nell'oscurità. Gea distruggerà gli dèi. E loro non verranno mai a sapere che eri tu, la tessitrice più brava». Il ragno sibilò. Annabeth ebbe paura che Atena comparisse all'improvviso e la punisse con chissà quale orribile condanna. La prima lezione che ogni figlio di Atena impara è che la mamma è la migliore in tutto e non si deve mai e poi mai pensare altrimenti. Ma non accadde nulla. Forse Atena aveva capito che la figlia stava dicendo quelle cose solo per salvarsi la pelle. O forse la dea era ridotta così male, divisa tra la personalità greca e quella romana, che non le stava prestando la minima attenzione. «No, così non va», bofonchiò Arachne. «Non posso permetterlo». «Ebbè», Annabeth si mosse, tentando di alleggerire il carico sulla caviglia pulsante di dolore. Una nuova crepa si aprì nel pavimento e lei dovette arretrare zoppicando. «Attenta!» la fulminò Arachne. «Le fondamenta di questo tempio sono state divorate nel corso dei secoli». Il cuore di Annabeth saltò un battito. «Divorate?» «Non hai idea di quanto odio ribolla sotto i nostri piedi», spiegò il ragno. «Di pensieri astiosi di tantissimi mostri che tentano di raggiungere l'Atena Parthenos per distruggerla. La mia ragnatela è l'unica cosa che tiene insieme questo posto, ragazzina. Un passo falso e precipiterai dritta nel tartaro». «Credimi, a differenza delle porte della morte, sarebbe un viaggio di sola andata, una caduta molto dura. E non permetterò che tu muoia senza avermi prima rivelato il tuo piano per i miei capolavori». Annabeth aveva un sapore di ruggine in bocca. «Dritta nel tartaro?» Tentò di rimanere concentrata, ma non era facile con i cigolii del pavimento che si spaccava, spargendo detriti nell'abisso sotto i suoi piedi. «Giusto, il piano», disse annuendo. «E, come ho già detto, mi piacerebbe tanto portare i tuoi arazzi sull'Olimpo e appenderli ovunque. Potresti sbatterli in faccia ad Atena per l'eternità. Ma l'unico modo in cui potrei riuscirci...» «No, è troppo difficile. Prosegui pure. uccidimi». «No!», gridò Aracne. «È inaccettabile!» «Non mi dà più nessun piacere quest'idea. Voglio avere le mie opere sull'Olimpo, a ogni costo». «Cosa devo fare?» Annabeth scosse la testa. «Scusa, non avrei dovuto parlarne. Spingimi nel tartaro, quello che è». «Mi rifiuto! Non essere ridicola, uccidimi! Non prendo ordini da te! Dimmi che cosa devo fare, e altrimenti... altrimenti... altrimenti mi ucciderai?» «Sì, anzi, no!» Aracne si premette le zampe anteriori sulla testa. «Voglio esporre le mie opere sull'Olimpo, a qualsiasi costo!» Annabeth tentò di contenere l'entusiasmo. Forse il piano poteva funzionare, ma doveva ancora convincere Aracne a fare una cosa impossibile. Le tornò in mente l'ottimo consiglio di Frank. «Cerca la soluzione più semplice. Immagino che, toccando le corde giuste, forse potrei...» «Io sono bravissima a toccare le corde!» esclamò Aracne. «Non sono dei fili, dopo tutto!» «Sì, ma per esporre le tue opere sull'Olimpo dovremmo superare una vera e propria selezione!» «Io dovrò promuovere l'idea, presentare una proposta, mettere insieme un portofolio.» «Mh... Hai per caso dei primi piani?» «Primi piani? Foto in bianco e nero patinate?» «Ah, lascia stare. La cosa più importante sarà la selezione. I tuoi arazzi sono favolosi!» «Ma gli dèi richiederanno qualcosa di molto speciale. Qualcosa che dimostri al massimo il tuo talento?» Aracne ringhiò. «Stai forse suggerendo che queste non sono le mie opere migliori? Vuoi forse lanciarmi una sfida?» «Oh no! Anna Beterise, io sfidare te? Caspita, no! Sei troppo brava! La sfida sarebbe solo con te stessa. Per vedere se hai davvero le qualità che servono per esporre le tue opere sull'Olimpo.» «Certo che le ho! Beh, ne sono convintissima. Ma la selezione, sai, non è una formalità. Ho paura che sarà molto difficile. Sei sicura di non volermi uccidere?» «Smettila di ripeterlo!» strillò Aracne. «Cosa devo fare?» «Ti faccio vedere.» Annabeth si tolse lo zaino dalle spalle. Estrasse il computer portatile di Dedalo e lo aprì. Il logo scintillò nell'oscurità. «Che cos'è?» domandò Aracne. «Una sorta di telaio?» «In un certo senso. Serve a tessere insieme le idee. Al suo interno contiene uno schema dell'opera d'arte che tu dovresti realizzare.» Le dita di Annabeth tremarono sulla tastiera. Aracne si abbassò per sbirciare da sopra le sue spalle. Avrebbe potuto conficcarle i denti accuminati nel collo in un baleno. Annabeth lanciò un programma di imaging in 3D. Il suo ultimo progetto era ancora aperto. La chiave per il piano. Ispirato alla musa più improbabile di tutti i tempi. Frank Junk. Annabeth fece dei rapidi calcoli. Aumentò le dimensioni del modello. Poi mostrò ad Aracne come poteva essere realizzato. Fili di stoffa tessuti a strisce e poi intrecciati in un lungo cilindro. La luce dorata dello schermo illuminò il viso di Aracne. «Vuoi che faccia questo? Ma è una cosa da nulla. È piccolo e semplice. Le dimensioni reali sarebbero molto più grandi», l'avvertì Annabeth. «Vedi queste misure? Deve essere grande abbastanza da impressionare gli dèi. Può sembrare semplice, ma la struttura ha delle proprietà incredibili. La seta della ragnatela sarebbe il materiale perfetto, morbido e flessibile, ma al tempo stesso, resistente come l'acciaio.» «Capisco.» Aracne aggrottò la fronte. «Ma non è un arazzo.» «Proprio per questo sarà una sfida. Va al di là delle opere che sei abituata a creare. Un pezzo come questo, una scultura stratta, è proprio quello che gli dèi stanno cercando.» «Verrebbe collocato all'ingresso della Sala del Trono, dove tutti i visitatori dell'Olimpo potrebbero ammirarlo.» «Saresti famosa per l'eternità!» Il ragno emise un brontolio cupo e scontento. Annabeth intuì che l'idea non le andava, genio. Cominciò a sudare freddo. «Ci vorrebbe una gran quantità di ragnatela», si lamentò Aracne. «Più di quanta potrei tesserne in un anno!» Annabeth aveva sperato in quello. Aveva calcolato la massa e le dimensioni dell'opera proprio con quell'idea in mente. «Dovresti sbrogliare la statua», suggerì, «e riutilizzare la seta.» Aracne sembrava sul punto di opporsi, ma Annabeth fece un gesto della mano verso l'Atena Parthenos, come se non fosse nulla di che. «Cos'è più importante? Coprire quella vecchia statua o dimostrare che la tua opera è migliore. Naturalmente dovresti stare molto attenta. Dovresti lasciare abbastanza filo da poter sostenere la stanza. Ma se credi che sia troppo difficile…» «Non ho detto questo!» «Ok. È solo che… beh, Atena ha detto che realizzare una struttura intrecciata come questa sarebbe un'impresa impossibile per qualsiasi tessitrice, anche per lei. Perciò, se non credi di poterla…» «Atena ha detto questo!» «Beh, sì!» «Ridicolo! Io ci riesco!» «Fantastico! Ma dovrei cominciare subito, prima che gli dèi dell'Olimpo scelgano un altro artista.» Aracne ringhiò. «Se mi stai tendendo un tranello, ragazzina, mi tieni in ostaggio! Non è che possa andarmene chissà dove!» le ricordò Annabeth. «Una volta terminata la scultura, converrai che è il pezzo più strepitoso che tu abbia mai realizzato. In caso contrario, morirò volentieri.» La creatura esitò. Le sue zampe accuminate erano così vicine che avrebbe potuto trafiggere la semidea con una rapida mossa. «Bene!» decise. «Un'ultima sfida! Contro me stessa!» Aracne salì lungo la ragnatela e cominciò a sbrogliare l'Atena Parthenos.